la giornata, 21 in tutto, mica male. Tra i sei pareggi di questa trentatresima giornata, ecco forse il più prevedibile, quello tra le prime due in classifica. In effetti, tanto il Milan capolista che il Cesena ottimo secondo, si sono, come vogliamo dire, rispettati moltissimo. D'altro canto, anche Lazio e Genoa hanno fatto un solo punto, quindi tutto come prima, tranne che per la Sampdoria, che ha fatto un brutto break in casa ad opera dell'imprevedibile Rimini dei Vecchietti. Ed ecco un paio di cose discrete cavate da questa partita senza emozioni. Una bordata di Buriani, rimediata molto distinto da Recchi. E vedete, nella fuga qualcuno ha perso addirittura una calza. E infine Piotti, che replica Pireccini, anche lui distinto, salvando il pari del Milan.